Come al solito, i primi a notarlo furono i bambini e i gatti. Un grosso micio striato che dormiva su una catasta di legna riscaldata dal sole sussultò, sollevando la testa tonda, assò le orecchie, sbuffò e sgattaiò l'otro alle ortiche. Dragomir, il figlio di tre anni del pescatore Trigla, che sulla soglia di casa faceva del suo meglio per sporcare ancora di più la camicuola già sudicia, si mise a strillare con gli occhi lacrimosi, fissi sul cavaliere che passava. Lo strigo avanzava lentamente sulla sua giumenta, senza provare a superare il carro di fieno che ostruiva la strada. Dietro di lui trotterellava un asino carico, che allungava il collo e dava continui strattoni alla corda fissata all'arcione della sede. Oltre al normale basto, l'animale dalle lunghe orecchie portava in croppa una voluminosa sagoma avvolta in una coperta da cavallo. Il fianco grigiastro dell'asino era ricoperto da nere macchie di sangue rappreso. Il carro svoltò finalmente in una stradina laterale, che conduceva a un granaio e a un imbarcadero, dal quale la brezza aspirava portando un odore di pece e orina di bue. Geralt accelerò. Non reagì al grido soffocato della venditrice di ortaggi, che fissava gli artigli della zampa ossuta che spuntava da sotto la coperta e che ballonzonava al ritmo del trotto dell'asino. Non si girò a guardare la piccola folla, sempre più folla che lo seguiva, ondeggiando in preda l'eccitazione. Come al solito, davanti alla casa del capovillaggio, stazionavano numerosi carri. Geralt balzò giù dalla sella, si aggiustò la spada sulla schiena e gettò le briglie sulla piccola staccionata di legno. La folla che lo seguiva si dispose a semicerchio intorno all'asino. Le grida del capovillaggio si sentivano anche all'esterno. Non si può, ti dico, non si può, porco demonio! Non capisci quando ti parlo, canaglia! Geralt entrò. Davanti al capovillaggio piccolo, panciuto e rosso di rabbia, un abitante del borgo teneva per il collo un'oca che si dibatteva. Cosa? Per tutti gli dèi sei tu, Geralt? Non mi inganna la vista? E di nuovo, rivolgendosi al contadino, portala via, cafone! Sei diventato sordo? Dicevano che bisognava darvi qualcosa, signore, altrimenti farfugliò quello guardando l'oca con la coda nell'occhio. Chi l'ha detto? Chi? Accetterei fosse delle regalie? Fuori ti dico, urlò il capovillaggio. Salve, Geralt! Salve, Caldmein! Il capovillaggio strinse la mano dello strigo, dandogli una pacca sulla spalla con l'altra. Saranno due anni che non capiti qui, eh, Geralt? È vero che non rimani mai a lungo da nessuna parte. Da dove vieni? Ah, accidenti, che differenza fa! Ehi, qualcuno ci porta i due brocchi di birra? Siediti, Geralt, siediti! C'è confusione, perché domani comincia la fiera. Come va, raccolta! Dopo, prima usciamo. All'esterno, la folla era già raddoppiata, ma lo spazio libero intorno all'asino non era diminuito. Geralt sollevò la coperta. La folla lanciò esclamazioni di sorpresa e indietreggiò. Caldmein rimase a bocca aperta. Per tutti gli dèi, Geralt! Che cos'è? Una chichimora. È prevista una ricompensa, signor capovillaggio? Caldmein spostò il peso da un chiede all'altro, guardando la sagoma simile a quella di un ragno, ricoperta da una pelle nera e secca. L'occhio vitro della pupiglia verticale, le zanne come aghi nelle fauci insanguinate. Dove? Da dove? Sull'argine. A quattro miglia dalla città. Nelle paludi. Caldmein. Là devono essere scomparse delle persone, dei bambini. Sì, è vero, ma nessuno, chi poteva supporre? Ehi, gente, è a casa, al lavoro! Non c'è niente da vedere! Copri la, Geralt! Si stanno radunando come le mosche! Una volta nella stanza, il capovillaggio prese una grossa brocca di birra e la beve fino in fondo, senza mai staccarla dalle labbra. Fece un profondo sospiro, tirando su con il naso. Poi disse in tono tetro. Non c'è ricompensa. Nessuno supponeva neppure che qualcosa del genere si annidasse nelle paludi salmastre. È vero che parecchie persone sono scomparse in quella zona, ma erano in pochi a cironizzolare sull'argine. E tu da dove arrivi? Perché non percorrevi la strada principale? Sulle strade principali mi è difficile trovare da vivere. Caldman. Il capovillaggio represse a un rutto gonfiando le guance. Oh, dimenticavo! Eppure, questa era una zona tranquilla. Persino i folletti pisciavano solo di rado nel latte delle donne. E guarda un po'. A due passi ti trovi una chichi come si chiama. Bisogna proprio che ti ringrazi, perché ricompensarti non posso. Non ho fondi. Lo strigo beve un sorso dalla sua brocca e si ripulì la bocca dalla schiuma. Che sfortuna! Mi avrebbero fatto comodo un po' di soldi per passare l'inverno. Vorrei andare a Jaspen. Ma non so se ce la farò prima che la neve ostruisca le strade. Potrei rimanere bloccato in una delle piccole città fortificate lungo la strada di Luton. Ti tratterrai molto a Blaviken? Poco. Non ho tempo per spassarmela. Arriva l'inverno. Dove alluggerai? Perché non da me? C'è una stanza libera in soffitta. Perché farsi pelare da quei ladri di locandieri? Così mi racconterai che cosa succede nel vasto mondo. Volentieri. Ma che cosa ne dirà la tua Liubse? L'ultima volta ho notato che non mi ama la follia. In casa mia le donne non hanno voce in capitolo. Però, detto fra noi, in sua presenza, non rifare il numero che hai fatto l'ultima volta a chi hai cenato con noi. Alludi al fatto che ho lanciato una forchetta contro un ratto? No, alludo al fatto che l'hai colpito. Con tutto che era buio. Mi pareva divertente. E lo era. Ma non farlo davanti a Liubse. Senti, come si chiama? Quella Kiki... Kikimora. Ti serve a qualcosa? E cosa dovrei farci? Se non è prevista una ricompensa, puoi anche ordinare di buttarla nell'etamaio. Non è una cattiva idea. Ehi, Carleca! Borg! Nascondi Pietra! C'è qualcuno là? Una guardia cittadina entrò nella stanza, urtando rumorosamente la lama della partigiana, che portava in spalla contro il telaio della porta. Noso di Pietra, fatte aiutare da qualcuno. Vai davanti alla casa, porta l'asino e la diavoleria avvolta nella coperta, dietro al porcile e buttala nell'etamaio. Capito? Ordinò Kaldmerin. Ai vostri ordini, ma, signor Capovillaggio, che c'è? Forse prima di annegare quello brobrio, beh, magari sarebbe il caso di mostrarlo a Mastro Irion. Potrebbe servirgli. Kaldmerin si batte sulla fronte con la mano aperta. Non sei uno sciocco, naso di Pietra. Ascolta, Geralt, forse il mago cittadino ti sgancerà qualcosa per la carogna. I pescatori gli portano ogni genere di strani pesci. Octopodi, Black Laber, Kruglen e hanno anche guadagnato in parecchi. Vieni, andiamo alla torre. Vi siete procurati un mago? Fisso o di passaggio? Fisso, Mastro Irion vive a Blaviken da un anno. Un mago potente, Geralt, te ne renderai conto solo a vederlo. Lo strigo fece una smorfia. Dubito che un mago potente paghi per una chichimora. Da quanto ne so, non serve a fabbricare nessun elisir. Sicuramente il vostro Irion mi coprirà solo di insulti. Tra maghi e strighi non corre un buon sangue. Non ho mai sentito dire che Mastro Irion abbia insultato qualcuno. Non posso giurare che pagherà, ma tentare non nuoce. Nelle paludi potrebbero essercene altre di quelle chichi more. Allora che il mago dia un'occhiata al mostro e all'occorrenza getti un incantesimo o qualcosa del genere. Lo strigo rimase un istante sovra pensiero. Un punto per te, Calmeri. E va bene. Rischiamo pure un incontro con Mastro Irion. Andiamo. Naso di pietra caccia via quei ragazzini e conduci il ciucco per la corda. Dov'è il mio cappello? Dov'è il mio cappello? Add0? Salis! Dov'è il mio cappello? No?